Siamo con l'assessore Maria Luisa Tavernini, per questa conferenza dei mercatini di Natale di Arco abbiamo sentito che appunto è stato un grandissimo successo anche quest'anno, a cosa è dovuto secondo lei questo successo? Beh è vero, come dici tu, innanzitutto buongiorno a tutti gli aspettatori, questo grande evento è stato un evento che ha riscontrato un vero e proprio successo, è stato un anno record e direi anche sopra qualsiasi tipo di aspettative. Sicuramente di motivazioni ce ne possono essere tante, sicuramente Arco da un punto di vista climatico e ambientale è una realtà davvero unica, credo che sia un territorio che possa offrire molto, che dia la possibilità a chi comunque viene a soggiornare sul nostro territorio per una settimana, per un paio di giorni o per una giornata sola e di poter visitare il mercatino, di fare una passeggiata solo lì da Valia o sul castello. Ma mi sento di dire che questo non è solamente il perché il mercatino ha avuto veramente questo successo inaspettato, sicuramente nel corso degli anni, sono davvero tanti, a suo centro con Bruno Lunelli e tutti i collaboratori hanno veramente lavorato in sinergia, continuando a proporre novità e nuove proposte e facendo crescere ed evolvere quindi il mercatino. Quindi una continua collaborazione e sinergia per fare in modo che il mercatino possa offrire di anno in anno sempre un qualcosina di più. Ed infatti possiamo dire che è entrato a far parte davvero delle tappe, tra virgolette, del mercatino, quindi davvero è diventato quasi un must anche il nostro mercatino. Quindi davvero possiamo ritenerci davvero soddisfatti per questo risultato eccezionale. Anche un evento oltretutto per l'intera famiglia, no? Con per esempio la fattoria degli animali. Assolutamente. Se una volta il contatto con gli animali era scontato, chiamiamolo così, al giorno d'oggi possiamo dire che i ragazzini, le famiglie che vivono in città hanno difficoltà nell'andare in contatto con gli animali. Quindi la fattoria didattica piuttosto che la passeggiata con gli asinelli sono davvero qualcosa di particolare, di creativo. Abbiamo sentito durante la conferenza stampa appunto grande successo anche dal punto di vista turistico del mercatino di Arco. Qual è la sua valenza a livello territoriale? È un grande momento promozionale, sicuramente è un grande momento anche economico perché poi quando gira tanta gente c'è la soddisfazione dei nostri operatori e quindi sicuramente questo è importante. Però dal punto di vista promozionale è una cosa stratosferica se pensate che solo in questo periodo, in termini di territorio Garda Trentino, abbiamo più annunci giornalistici o comunque i rapporti con i media rispetto a tutta l'estate, questo riguarda naturalmente il mercato italiano. E il mercatino è anche un momento nel quale l'italiano si rifa vivo sul Garda Trentino. Il lago in generale insomma non è molto amato come motivazione di vacanza in Italia rispetto ai paesi stranieri. Quindi è un momento anche per farci conoscere e quello che si nota per strada è sentire questa gente che dice ma non pensavo insomma che qui ci fosse un clima così mite come l'aveva stato peraltro quest'anno, una vegetazione di questo tipo e quindi un apprezzamento oltre che per i mercatini sicuramente anche per il nostro ambiente che rimane il cavallo di battaglia di attrazione della nostra attività promozionale. Quindi massima soddisfazione insomma? Assolutamente massima soddisfazione, un grazie sicuramente a chi si è dedicato, a chi è inventato e a chi continuerà ad innovare. Poi io penso che come Garda Trentino l'unità con Riva del Garda, con Casa di Babbo Natale e le sollecitazioni che sono venute anche a fare di più in quel di Riva, il magnifico borgo di Canale di Tenno e Rango che ormai è un mercatino consolidato oggi possano anche considerarsi un'offerta turistica piena e quindi su queste quattro iniziative forse il nostro compito in Ingarda sarà quello di raccordare, di promozionare di più e di far sì che la vacanza magari di un giorno si trasformi in una vacanza di tre giorni che per noi è importante. Siamo con il presidente dell'Associentro Bruno Lunelli, stanno smontando le casette di Natale ma il mercatino è finito, se dovesse tracciare un bilancio? Ma direi che è senz'altro positivo, più volte ho rimarcato che siamo riusciti a creare un prodotto che riesce a destagionalizzare la nostra località e in più abbiamo avuto una forte presenza di turisti italiani che hanno apprezzato il territorio, hanno apprezzato le nostre bellezze naturali, perciò direi che è una cosa che se non ci sarebbe bisogna riventarla. Quindi squadra che vince non si cambia e anche prodotto che vince non si cambia, o avete in mente dei cambiamenti? Naturalmente bisogna sempre essere sul pezzo e cercare di dare delle proposte innovative. Ribadisco che il successo di questa manifestazione fa parte di un team di soggetti che va dall'amministrazione comunale in Garda al suo centro ed anche titola una serie di volontari che mettono il proprio tempo e la propria voglia per creare questo prodotto. Direi che Arco merita un mercatino di Natale, Arco merita di avere una promozione in questo periodo e ribadisco il successo dell'iniziativa è dato anche da un riscontro economico che coinvolge sia il ricettivo e la ristorazione che anche tutto il settore del commercio.